Ci vuole coraggio per sognare, ma sostenuti dal Vangelo è possibile, come hanno fatto tanti santi nella storia. Con queste parole Papa Francesco ha ringraziato Padre Hermes Ronchi dell'Ordine dei Servi di Maria per aver guidato quest'anno gli esercizi spirituali per il Pontefice e la Curia Romana nel tempo di Quaresima. I sei giorni di ritiro sono trascorsi ad Ariccia, presso la Casa del Divin Maestro, scanditi dalle meditazioni sul tema Le nude domande del Vangelo. Dopo la Santa Messa e l'ultima riflessione del sacerdote friulano, Papa Bergoglio ha fatto rientro in Vaticano, in Pullman, insieme con i suoi collaboratori.